Intitolato alla memoria di Gino Esposito, il teatro del Parco Arbostella torna ad essere una piccola bomboniera. Il piano di ristrutturazione completato è stato illustrato questa mattina alla presenza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, mentre all'ultimo momento è saltata la presenza annunciata anche del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Il nuovo teatro è stato dotato di camerini e bagni degni di questo nome, ma un video ha raccontato attraverso le immagini l'evoluzione della struttura nata dal riutilizzo di un prefabbricato e animato dal gruppo teatrale che ha avuto come fondatore il compianto Gino Esposito. Sì, la regione Campania ha dato modo a questo teatro di avere una sua nuova veste, è un teatro di tradizione gloriosa, ricca di stimoli per il quartiere ma non solo. Con i fondi della regione Campania sono stati rifatti tutti i servizi e i sottoservizi, servizi elettrici, igienici, idrici e quant'altro. È stato posizionato un antifurto con controllo remoto, impianto antincendio, il sipario interamente rifatto, il palco riverniciato con vernice in infuga, sedie rivestite con rivestimenti adeguati e nuovi e credo che si riprenderà questa iniziativa che lega la sua vicenda culturale al quartiere ma si espande a tutta la città.